Una di queste idee, se voi vi ricordate, era quella del dimezzamento dell'indenità parlamentare. Adesso voglio vedere i nostri colleghi se rispetteranno almeno questo. Io non chiedo che li versino allo Stato come faremo noi nei prossimi giorni. Zitto, anche quando ha ragione non deve parlare Gasparri. No, però Gasparri, l'abbate danno ragione e l'iguori danno ragione a crimini, cioè devono pagare. E aggiungo una parola che lui la sentirà, aspetta un attimo. Voglio aggiungere che l'attacco mediatico, poi ne parleremo, ma l'attacco mediatico, forte, concentrico, con pochi precedenti, contro il Movimento 5 Stelle, c'è e come? Che però loro se la dovevano aspettare, perché quando uno si diventa un movimento che destabilizza in un sistema che fa un governo di larga intese, che se la dovesse aspettare, ma che c'è, non potete dirmi di no perché ho molti anni di esperienza. No, no, no.